Per Fiorugio e Marco Picchio abbiamo qui Alessandro Alessandrelli che è la presentazione dell'azienda Alessandrelli di Perugia. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti, è l'azienda del centro a casa di Alessandrelli che è Alessandrelli di Perugia, che è un'azienda che ormai vuole essere attività da 2019. Siamo presenti sia nel settore di Alessandrelli che nella distribuzione di Alessandrelli di Grosso o anche nella distribuzione di Alessandrelli di Alessandrelli, sia nel settore di affari di Alessandrelli di Comunica, sia nella gestione di Alessandrelli di Alessandrelli di Alessandrelli di Perugia. Esattamente, quindi abbiamo conoscenza dei materiali e delle tendenze sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista del casalino e dell'utilizzo quotidiano e familiare che avviene all'interno di Alessandrelli di Perugia. Una domanda che facciamo sempre, che noi siamo più dubbi, qual è il numero di acce della vostra azienda? Noi crediamo molto nella qualità e crediamo che nella qualità e nella selezione del prodotto avvenga poi la identificazione del nostro marco, del nostro brand, del nostro negozio in ogni oggetto. Quindi in ogni oggetto c'è un cuore di Alessandrelli, un fil rouge che continua sia nel professionale che nel casalino. Allora adesso a questo punto, come dice il fil rouge, entra in scena.